sezana fiorent elect andy to editrice sezana fiorent due collezionisti e la mostra dell'impressionismo del 1910 a cura di francesca bardazzi 2007 mondatore si apre con una grande mostra l'attività della fondazione palazzo strozzi sulla fondazione l'amministrazione comunale ha deciso di investire molto in termini di fiducia e di aspettative ma anche in termini di risorse economiche a questo nuovo soggetto è affidato un ruolo centrale nel sistema cultura della città dovendo far interagire istituzioni e soggetti privati nella definizione e nella realizzazione di progetti che esprimono capacità di valorizzare il nostro patrimonio artistico sviluppare l'offerta culturale formativa elaborare scelte strategiche di elevata qualità una cabina di regia per la programmazione e la produzione di cultura dunque cui compiterà promuovere integrazioni diffondere conoscenza individuare nuovi percorsi culturali che consentano di rendere possibile la convivenza tra la città e del rinascimento con la sua preziosa eredità e l'identità della fiorence contemporanea con le sue trasformazioni e il suo potenziale innovativo e moderno grazie grazie